Madame, per voi sono mancato alle notte per la prima volta in tanti secoli, quanto vi voglio. Certo so di essere uno spettro, un assassino, ma dimenticate tutto questo. Questa è la notte di Halloween, l'unica notte in cui torno di carne e di sangue. Che ne dite di fare un po' di scalpe insieme? Allora, almeno ditemi il vostro nome. Caspita! Vi assicuro, madame, che ho i migliori zebedei di tutta l'Irlanda. Che cosa ne dite? Facciamo una prova. Crepa. Caspita, che donna!